bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi quante novità stanno per arrivare nel futuro di fortnite vi avevo anticipato qualcosa relativo all'evento di lachlan e beh oggi invece sappiamo che regalerà un bel po di soldi ma soprattutto 500 nuovi pack ve lo faccio vedere dopo parleremo anche di un bug incredibili e incredibile di un sacco di leaks volevo subito approfittare per ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video delle 13 e 30 ma andiamo a vedere proprio alcuni degli argomenti che tratteremo oggi ne abbiamo già parlato oltre a questo voglio far vedere un bug incredibile con l'elicottero sarà possibile utilizzarlo in un modo un po strano e diventare invincibili ma prima la domandina lo sapete ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto e la domanda di oggi non poteva che essere questa ma te come lo sceglierai la gente mi ascolo nella fazione delle ombre oppure nella fazione degli spettri sono belli tutti e due c'è da dire che sono fatti bene mi ascolo molto carino divertentissima anche la sua intro io probabilmente anzi sicuramente lo scelgo nella variante degli spettri delle ombre tanta tanta roba molto bello mi piace di più nero che bianco dimmi quello che sceglierai tu qua sotto nei commenti ma quindi ciancio le domande in bando le ciance andiamo subito a vederlo allora il post ufficiale nella pagina twitter di la clan la clan ragazzi ve l'ho già detto youtuber milioni di iscritti aveva twittato ieri che sarebbe successo qualcosa ieri alle 9 del mattino per noi in realtà qualcosa è successo ma non in game ha rituitato una nuova informazione e dice che è molto contento di annunciare la nuova partner con fortnite per il trios fashion show quindi probabilmente una partita un torneo in tre sicuramente se voi andate nella suo canale youtube trovate il link giusto per il suo ultimo video che vi indirizza al modulo di partecipazione al fashion show ci sono in paglio 200 mila dollari e 20 mila dollari e ci sono anche 500 nuovi pack slarpy slarp fish in premio quello praticamente che abbiamo già visto nella patch 12.20 tanta tanta roba ragazzi andate ad informarvi io cercherò di darvi anche delle altre informazioni durante la live che faccio sulla piattaforma viola e ovviamente buona fortuna a tutti anche solo per vincere un bel pack da 25 euro andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi vi ricordo ieri è uscita il set uscito il set della delle sfide della settimana numero 5 abbiamo la mappa solita completa che ci dà delle informazioni tipo dove sono i campi da calcio tipo dove bisogna spostarsi per gli atterraggi ho fatto i video anche io dove si possono aprire i forzieri e tanta roba utile queste ci serviranno appunto per aumentare quelle da fare e scegliere quindi la variante di miascolo che sia ombre o che sia spettri quindi non sono molto difficili fatele mi raccomando che sono 400 mila punti esperienza ma andiamo avanti ragazzi con un tweet davvero molto interessante perché aggiornato a quando state vedendo il video una manciata di ore fa è stato fatto un aggiornamento nei file di gioco di fortnite che inserisce un nuovo pack criptato che cos'è un pack criptato perché ancora non lo sapesse praticamente è proprio un pacchetto che al suo interno contiene qualcosa che non si sa che cos'è e non si riesce a decryptare perché io l'ho sempre detto i leaks che vediamo sono perché epic games ce li vuole far vedere quello che non vuole farci vedere tranquilli che lo infilano sempre dalle parti più ambigue e nessuno li trova la cosa interessante è che questo pack che è stato aggiunto si potrebbe pensare sia o di la clan e quindi magari una skin non lo so o altrimenti il pack di scott travis perché comunque la skin o meglio i nomi relativi alla skin sono ancora presenti nei file di gioco ma purtroppo non si è mai visto nulla sono uscite delle immagini ve le avevo fatte vedere ci auguriamo che sia quello anche perché appunto quello che viene detto sotto nel continuo del tweet è proprio quello che vi ho appena detto se devo essere sincero so a me non interessa niente però so che molti di voi apprezzano scott travis e quindi spero che sia la skin dedicata al rapper super famoso e andiamo avanti ragazzi perché invece ci sono anche degli aggiornamenti per quanto riguarda i c4 un argomento davvero molto discusso sia sui forum sia sui video su youtube dove ovviamente si dice che il c4 utilizzato in maniera corretta è veramente rotto tanta tanta roba io ho preso un po' di confidenza ad utilizzarlo e devo dire che fa un male violentissimo basta immaginare che tu ti infili tranquillamente in un fight tra due gli lanci giù tra 4 c4 e fai un casino che la maggior parte delle volte ne ammazzi due al prezzo di uno praticamente ragazzi la modifica che sta fatta è che il drop da adesso per i c4 sarà di uno quindi uno solo e non più 3 e ovviamente lo spawn rate è stato diminuito abbiamo delle informazioni un pochettino più dettagliate è stato diminuito nelle nei sapi jobs quindi nei forzieri dallo 0,4 allo 0,2 e invece dei sapi drop nei drop e invece per il loot a terra e i forzieri dallo 0,3 per cento allo 0,15 quindi sarà molto più faticoso trovare il c4 cerchiamo ovviamente di capire se questa modifica ha avuto senso oppure no e andiamo avanti ragazzi perché invece voglio farvi vedere uno spezzone di video perché esiste un modo per utilizzare l'elicottero in maniera un po' abigua ovvero sia siete invisibili e ve lo faccio vedere ve lo faccio vedere come avete visto ragazzi se voi riuscite a mettervi con l'elicottero dove c'è la diga e quindi passarci sotto nel momento in cui attraverserete e raggiungerete il lago partirà il bug e l'elicottero andrà sotto l'acqua quindi voi potrete vedere quello che succede fuori gli altri invece non vi potranno vedere e quindi la cosa risulta assolutamente oppi abbastanza invincibile provate a farlo alla peggio io non ci ho ancora provato ditemi se funziona ancora o se l'hanno già fixato e andiamo avanti ragazzi perché voglio anche invece parlarvi della mini storyline che continua giorno per giorno ad avere degli aggiornamenti vi ricordo le mini storyline sono ad esempio quella che c'è stata in tutto il primo capitolo di fortnite a partire dalla season 7 barra 8 dove c'erano i giganti di pietra ve li ricordate quelli vicino al vulcano che salutavano il bambino poi hanno litigato insomma tutte quelle minchiate lì questo giro invece hanno rubato la sedia di mida dall'agenzia e l'hanno insieme a dei documenti e li hanno messi prima su una canoa ve l'avevo già fatto vedere mentre adesso li hanno portati su un camioncino non si sa bene che cosa diamine significhi questa cosa ma è sicuramente un fattore molto divertente che ci fa piacere mentre invece aspettiamo ovviamente un arrivo ufficiale di un evento di questa season vi ricordo che sono già uscite delle immagini interessantissime dell'agenzia che ci fa vedere molti dei dettagli dorati la statua davanti i corrimano alcune scale non si capisce quando potrebbe anche essere la fine della season con un evento incrociamo le dita aspettiamo qualcosa e chissà che arriverà roba seria insomma ragazzi anche per oggi ho tutte le news ve le ho dette voglio ringraziarvi tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel like iscrivetevi ai miei canali io sono in live sulla piattaforma viola ciao ringrazii ringrazi room ringrazi ringrazi ringrazi